salve salvino mio fambellino oggi siamo su god have con una grassa particolarissima solo con il cartellino vabbè proviamoci ecco lì Allora, l'abbiamo! Sì! 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 Eccolo! Ma non mi fa perché questo è gioco realistico, sì! 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 Eccolo! Sì! 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 Mi mamma, non lo so che non lo so. No, no. Andaro. Stai da me. Non so. No, ok. No, ok. Yeah. Non so. Hai. Non so che non mi roba. Non so che non mi roba. forse quello lo faccio è molto buono Nooo, non ci vedo nemmeno io Miami Vabbè Non ne faccio nemmeno una Te ne vuoi tratti Cosa è proprio forte di domani? Poi Io non è Quello è fatto solo a tutti Vabbè Non mi riesce a dire Poi Che pieno, lo prendi Altta altta avanti a arriva una provvigionamento nemico hello questo lo faccio questo lo faccio e lo penso siiii siiii non so nemmeno io cosa l'ho fatto, io faccio i janzi non ho fatto un altro quanto è un altro è stato fatto è stato fatto ma doveva venire? è stato fatto è stato fatto è stato fatto ma non è stato fatto è stato fatto è stato fatto è stato fatto non lo faccio dov'è essere coppa mia yeah vabbè vuoi il cozzellino il video finisce qui bella